Il presidente della Banca Mondiale, composta da 189 paesi, l'americano David Melpass, 66 anni, ha annunciato le sue dimissioni a quasi un anno dalla scadenza naturale del suo mandato. Melpass non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi del suo addio. Gli anni della presidenza Melpass, a partire dal 2019, sono stati piuttosto discussi e turbolenti. Considerato un fedelissimo di Trump, Melpass è stato criticato per la vicinanza alle posizioni estreme dell'ex presidente, ad esempio per essere un negazionista del cambiamento climatico.